Il numero 409, categoria C4 Il numero 40, 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 categoria C4 Passiamo all'ultima categoria in gara Al suo debutto in categoria C4, categoria C4, la categoria regina dello speed down, mezzi molto performanti, veloci Sono devonato Francesco, nonché consigliere della scuderia speed down project Vieni Francesco, sali sul palco Quarto classificato, uno dei nostri, è innamorato dei guardrail, per fortuna qui evidentemente non gli sono piaciuti Che lui, che lui, che lui li prende spesso i punti, anziché prende sulla fronte, il nostro paone Vittorio, combina sempre danni e guai Attenzione A전 cadere eh che sei un danno pure a piedi no vieni vieni sale vittorio anche lui è un membro consigliere della speed down project sedetevi ragazzi sedetevi al podio per favore sedetevi vitto sedi qua tu a quest'altro gradino più basso del podio gradino più basso del podio altro caro amico che arriva dalla Sicilia e l'ho ho avuto il piacere di coinvolgerlo personalmente in questa categoria Francesco Dell'Albani terzo classificato terzo classificato ha praticamente meno di un decimo dal podio bravi comunque Francesco complimenti strappa strappa il secondo posto fino all'ultima manche detenuto da Dell'Albani appunto strappa il secondo posto con con un tempo di 3 0 4 nell'ultima manche 3 0 4 69 per cui chiude con somma dei tempi di 6 primi 13 secondi e 43 millesimi il lametino Michele Mercuri che scalza dal secondo posto nell'ultima manche appunto Francesco Dell'Albani bravo Michele complimenti vince la categoria c4 vince la categoria c4 vince la categoria c4 il sottoscritto Francesco rotella e non ha aspira al secondo Grazie.